Si chiama Cerenza, fa le bontà, che in mani vengono il quattro che ha, si parla del bene e l'umanità, che in un'unità, si chiama Cerenza, si chiama Cerenza, fa le bontà, che in un'unità, 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 Se non solo per te, guarda negli occhi, con gli occhi di chi guarda io. La madre è tra e chi sa chi sarà, di certo è la madre, più madre che te. Di certo è una madre, perché crede noi, 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 crede noi. La madre è tra e chi sa chi sarà, di certo è la madre, più madre che te. Guarda negli occhi, con gli occhi di chi guarda io. Guarda negli occhi, con gli occhi di chi guarda io. Guarda negli occhi, con gli occhi, con gli occhi di chi guarda io. Guarda negli occhi, con gli occhi di chi guarda io. Grazie a tutti.